Buona domenica a tutti. Amici, a 24 ore della presentazione delle liste posso dare l'ufficialità della mia candidatura a sindaco di Trento la Ducenta. Che bello! Dopo 60 giorni di discorsi e di riunioni siamo riusciti a creare una lista autonoma da tutti e da tutto. Forse è la prima volta che accade una cosa del genere a Trento la Ducenta e questo mi gratifica da un lato e dall'altro mi responsabilizza. So che molti di voi hanno creduto in questa lista, vi ringrazio tutte le persone che con me hanno fatto sì che questo progetto avesse inizio e adesso arriva la parte più complicata, quella di far conoscere alla città il nostro programma. Noi non andremo nelle piazze a sparlare dell'una o dell'altra lista. Noi faremo capire al Paese il perché Trento la Ducenta ha bisogno di noi, ha bisogno di noi sia delle nostre idee e sia delle nostre competenze. Quindi quest'oggi vi mando un caro saluto e in questi giorni man mano vi spiegheremo tutti i punti caldi nel nostro programma. Un saluto a tutti.